Allora, quello che mi è piaciuto molto di questo progetto è l'importanza delle persone di fare le cose insieme, di non mollare mai, perché la sofferenza è un valore aggiunto. È stata una bella esperienza, speriamo che lo faremo anche l'anno prossimo. L'aspetto più bello di questo progetto è stato sicuramente quello di aver creato una rete sociale e di inclusione che ha permesso a ciascun membro del progetto di mettere in campo quelle che sono le capacità di ognuno e di andare oltre quelle che sono le diversità di nazionalità, linguistiche e culturali. Abbiamo visto durante i laboratori che ci sono diverse esigenze che il nostro territorio ha e attraverso l'attivismo civico possiamo fare qualcosa tutti. Io in questi ragazzi non vedo un problema, ma soprattutto una risorsa, perché ragazzi come loro che ci vogliono mettere l'impegno per integrarsi, per stringere amicizie con gli italiani è una cosa molto bella e questi progetti aiutano proprio a ravvicinarli alla realtà italiana. Abbiamo fatto una riunione, un primo incontro conoscitivo e a quel punto abbiamo capito che mettendo insieme le forze, un'associazione che parlava di sport, una che parlava di diritti umani, etica, conoscenza del territorio, attività che potessero coinvolgere anche gli adolescenti e noi della cooperativa sociale Perusia Ollus che ci occupiamo di sociale e nello specifico di immigrazione. A quel punto abbiamo detto sì, mettiamoci insieme, facciamo insieme questa attività, questo percorso e abbiamo un po' studiato come organizzarci. Mi porto a casa una bella esperienza che mi ha fatto capire meglio il tema dell'immigrazione che spesso viene trattato con superficialità. Infatti i ragazzi, ospiti delle strutture, seguono corsi di apprendimento della lingua e di integrazione ma ben altra cosa è condividere interessi, costumi e creare un mondo relazionale con persone qualunque del territorio anche esterne alle associazioni ed è proprio questo il nostro punto di forza. Credo che il valore aggiunto sia la conoscenza, il fatto che i miei ragazzi non conoscono la realtà se non attraverso quella che vedono dal telegiornale, dalla televisione. La verità è che non hanno mai incontrato, semplicemente, anche forse due metri di distanza, un ragazzo di un altro colore, un ragazzo che viene da un altro paese dall'Africa, i famosi migranti. Il messaggio che abbiamo voluto comunicare è che sì, siamo tutti diversi ma siamo anche uguali, possiamo scegliere di essere uguali nel momento in cui decidiamo di abbracciare, di perseguire dei valori, dei principi che sono universali. Ci ha fatto molto piacere che a volte alcuni ragazzi avessero difficoltà sia nello spostamento sia per quanto riguarda lo studio e ci ha fatto molto, diciamo, sorridere il fatto che alcuni ragazzi potessero venire con i libri e studiare nei mezzi per poter essere presenti al progetto. Proprio questo ci ha fatto capire che avessero appunto voglia di esserci. Un giorno abbiamo fatto anche un'attività che abbiamo pulito tutta la casa qua e anche la strada da venendo a casa nostra qua fino a dove che, come si chiama, dove che conferamo, abbiamo pulito un po' la strada. L'obiettivo di questo progetto era proprio quello di creare delle buone pratiche di accoglienza solidale tra i ragazzi di Crotone, gli studenti di Crotone e i migranti, i ragazzi degli Sprar. Da subito i ragazzi, anche grazie ovviamente al nostro elemento principale che era quello della musica, sono riusciti a interagire e a conoscersi, riuscendo anche ad abbattere tutte quelle barriere linguistiche molto difficili inizialmente. Questo progetto è stata la prima cosa bella che ho scoperto a Crotone da quando vivo qui. Questa è un territorio di emigrazione, quindi è stato difficile rintracciare i ragazzi tra i 16 e i 24 anni perché purtroppo questa fascia di età qui non esiste, c'è la prassi che una volta diplomatica la gente va via per studio, per lavoro, per cercare nuove opportunità. E invece confrontandoci ci siamo resi conto che hanno tutti le stesse esigenze, c'è quello di voler rimanere su questo territorio, però nello stesso tempo per poter rimanere su questo territorio c'è la necessità di inventarselo il lavoro in questi territori perché purtroppo abbiamo una disoccupazione altissima. e la cosa più interessante è che attraverso la musica, attraverso il ballo, attraverso la creazione di una comunità molti ragazzi hanno riscoperto, scoperto dei talenti che non pensavano di avere. Le hanno pescati in mare, come pesci. Sul dito di uno dei morti, prima che il pescatore lo ributtasse in mare, brillava un rubino rosso. Gliel'ha tolto? Solo quando ha visto l'anello il pescatore ha avuto per la prima volta un pezziero, che il morto potesse avere dei parenti. L'integrazione passa attraverso la conoscenza non solo delle persone, ma anche dei luoghi. Perché ciò sia possibile, è necessario che le istituzioni civiche se ne facciano promotori e facilitatori, promuovendo e supportando le azioni di comunicazione e messe in rete della realtà del territorio. Legalità non è solo avere i documenti in regola o avere il permesso. Legalità è conoscenza e rispetto dei diritti di ognuno, rispetto delle regole, certo, ma non fine a se stesso, bensì come dovere di prendersi cura del bene comune. Occorre un lavoro comune affinché l'eticità superi il legalismo. Promuovere e favorire la partecipazione civica, in tutte le sue forme, nell'impegno di ognuno secondo le proprie possibilità, è il miglior veicolo di inclusione sociale, è l'unico strumento per la ricostituzione di quel tessuto sociale che può concretamente contribuire a creare sicurezza e vivibilità ai nostri quartieri. Sono molto contenta, è un progetto che crea inclusione, che crea praticamente condivisione, contro il pregiudizio e bisogna attivarsi sempre nelle scuole perché la paura che c'è non esiste, non esiste. La bestialità è che purtroppo l'immigrazione è percepita e ingigantita, è gonfiata dai media in maniera incredibile, soprattutto anche da partiti politici, e la cosa peggiore è che sono considerati così agevolati. Un luogo comune, per esempio, è questi qui, hanno sempre i telefoni in mano oppure questi prendono 35 euro al giorno, gli vedi sempre quei telefoni. Ma la realtà non è così, le storie lo confermano. Purtroppo dei luoghi comuni di cui la gente non riesce a liberarsi, quando anche noi siamo stati protagonisti di migrazioni in passato. Migliorato probabilmente la durata sarebbe stata, in un periodo più lungo sicuramente ci saremmo conosciuti di più e avremmo anche fatto breccia un po' in quello che è il muro di insicurezza dei ragazzi perché sono comunque molto timidi, giustamente. Il fondo di forza è che se questa cosa viene proposta bene alla società può dare veramente un esempio di quello che si potrebbe fare, che non c'è nessuna paura da avere, c'è la possibilità che potrebbero sorgere. Giustolo con un progetto piccolo come questo dà un esempio. Però penso che sia necessario proprio avere buon senso perché finché una minoranza è lontana da te, finché il nemico del popolo non viene individuato in te, va tutto bene. Però può essere che un giorno o l'altro qualcosa possa capitare a te e allora a quel punto qualcuno ti dovrà difendere. Ci ho studiato un po', ho capito qual era l'obiettivo e mi sono buttato. Per me è la prima esperienza di lavoro con i migrianti, però devo dire che è stata molto profonda, mi ha dato tanto umanamente perché ho conosciuto storie e vite che sono veramente difficili da raccontare e i ragazzi piano piano, dopo aver conquistato la fiducia, dopo esserci misurati nella pratica, sono stati generosi nel raccontare queste cose e quindi sicuramente mi porto un bagaglio culturale di esperienza ma soprattutto di umanità molto grosso. Però spero di poterlo restituire in futuro e di collaborare ancora a questo tipo di attività.